Sono Enrica Florester-Cais della European Cultural Foundation. Per la European Cultural Foundation da più di 60 anni la cultura è fondamentale per connettere persone in tutta Europa. Secondo noi le organizzazioni filantropiche dovrebbero cambiare prospettive, dovrebbero diventare degli agenti di cambiamento sociale e culturale, dovrebbero diventare come le chiamiamo noi cultural change makers, dovremmo ascoltare molto di più a quello che succede e quello che è necessario per la società è sentire anche voci nuove, voci inaspettate per fare veramente un cambiamento sociale. Noi lavoriamo con cultural change makers, artisti, pensatori, letterati, direttori di teatro che veramente hanno la capacità di cambiare qualcosa a livello culturale e sociale. Per noi il credo democracy needs imagination è fondamentale. Noi abbiamo bisogno della voce dei creativi, degli artisti per creare un futuro aperto e democratico. Grazie.